La tentazione. Uh, c'era un asintoto dalla fede ispirato che fece voto di non essere toccato, ma davanti a una cotangente bella, sinuosa, suadente, dovette ammettere di sentirsi tentato. Night Club. Narva la storia del detraedro Petro, che beveva sidro corretto con cedro. Si battè per semiramide, gran bel pezzo di piramide. Gli ingessarono un angolo dietro. Flatlandia. Disse un semicerchio di matera. Se ruoto sul diametro divento la sfera. Chiosò il rombo. Che coglione! Non esiste una terza dimensione. Per il semicerchio fu giornata vera. Il pignolo. Grande fu l'importanza degli eventi al reparto maternità dei segmenti. Ebbero infatti natali tre gemelli, tutti uguali. Corresse il pediatra con gru enti. Paradosso dei corvi. Ho contato tre mila corvi. Ho finito ieri. Con assoluta certezza sono tutti neri. Poi ho mangiato una pera che non è di sicuro nera. Allora non è un corvo in base ai miei criteri. L'argomento. C'era un logaritmo bugiardo di cento che dal tirpanzani si tratteneva stetto. Gli chiesero se era vero che era stato logaritmo di zero. Ma il logaritmo di cento cambiò argomento. Grazie. Grazie.